Un po' di news inquietanti sono uscite proprio in queste giornate relative a Bitcoin e questa è la news di cui andremo a parlare oggi, cioè ragazzi la possibilità di Bitcoin che vada di nuovo a toccare i 21.000 dollari ma poi soprattutto che non si è mosso dal 2017, è vera questa cosa, in sostanza Bitcoin vale la stessa cosa di 6 anni fa, è un giochino tecnico ma è molto interessante, bisogna andarlo a vedere Ci ragioniamo su questa cosa e vediamo effettivamente quali sono le logiche che ci sono dietro questo tipo di ragionamento, se effettivamente i prezzi sparati con i target classici di Bitcoin possono essere accettati o poi la realtà è stata effettivamente molto diversa da quello che sembra in prima vista C'è poi anche un'altra questione ragazzi, c'è la questione di FTX perché FTX ha mandato un email, croll insomma l'azienda detta la ristrutturazione del debito di FTX per il fatto che hanno subito un hack e sono state prelevate le nostre email, tutti quelli che erano lì correttisti diciamo di FTX e quelli che hanno fatto anche i claim eccetera hanno avuto un hack Quindi è un phishing che riguarda, la possibilità scusate di phishing è aumentata notevolmente, cioè potete ricevere delle email in pratica dagli hacker che vi cercano insomma di prelevare dei dati Croll ha indicato che solo le email sono state hackerate e guardate un po' che cosa è successo questa mattina la mia email appena arrivata Prima mi è arrivata quella di croll di FTX dove mi indicava che la mail era stata prelevata e poi immediatamente dopo da una mail non confermata Io non ho ancora approfondito la questione perché mi è arrivata pochi minuti fa e quindi volevo andare insomma a ragionarci un po' L'email qui non la vedete ragazzi ma arriva da un dominio che è supportchiocciola email-ftx.com con la famosa richiesta di withdraw possibile dei fondi eccetera Non ho approfondito credo che sia assolutamente la classica email farlocca che è appena arrivato e infatti proprio su nelle mail di FTX quella invece vera Croll indicava che c'era la possibilità di avere dei phishing eccetera quindi delle mail che vi arrivano per cercare di prelevare dei dati Non cliccate niente fino a quando non si è chiarita questa situazione perché probabilmente gli hacker sono in possesso delle nostre mail e cercheranno di inviarci dei dati Insomma andrò ad approfondire perché vi ripeto mi è arrivata poco 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 pochi pochi minuti fa questa mail quindi andrò a approfondire vediamo da dove arriva eccetera eccetera Però volevo mostrarvela direttamente in questo video c'è anche una questione legata alla giornata di oggi di natura macro E quindi dobbiamo fare queste due riflessioni Primo ragioniamo su l'incontro di Jackson Hole della Fed che cosa è successo cosa ha detto Powell è finito da pochi minuti Due ragioniamo sulla questione che vi dicevo Bitcoin in realtà negli ultimi sei anni non ha fatto un bel niente Cioè è rimasto fermo sui prezzi in dollari gli stessi insomma degli anni precedenti Quindi è possibile che questa cosa vada a inficiare le famose aspettative su questo mercato sul fatto che Bitcoin possa crescere a dismisura e bla 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 I target stellari 150, 100 mila, un milione, due milioni, cose senza senso eccetera Vedremo di parlarne alla fine del video Allora prima questione legata a Jackson Hole ragazzi Allora c'è stata la riunione pochi minuti fa e è stata conclusa con il verdetto di Powell che ha parlato della questione della tasso di inflazione in pratica Allora questione legata al tasso di inflazione che ha detto Powell non è ancora del tutto rientrato Quindi la questione è molto semplice Il tasso di inflazione secondo il presidente della banca centrale americana è ancora troppo alto Questo significa che la banca centrale americana manterrà la politica restrittiva sui tassi di interesse ancora a lungo E si riserva anche l'idea di innalzare ancora i tassi di interesse Nonostante quelli nel prossimo FONC che ormai è praticamente imminente È ritenuto ma insomma quasi da tutti che il tasso non verrà alzato Quindi ci sarà sicuramente il break relativamente al tasso di interesse Vi faccio vedere il grafico quello prossimo del 20 di settembre L'80% ritiene che i tassi non saranno alzati Ma dopo le parole di Powell è aumentata questa percentuale Che prima era veramente insignificante Adesso siamo al 20% Questo perché ha avuto un atteggiamento da falco si dice così Cioè molto restrittivo Quindi un atteggiamento che ha indicato che la Fed continuerà a mantenere i tassi alti Anche se non dovesse alzarli ma saranno e resteranno alti Fino a quando l'inflazione non sarà completamente sotto controllo Questo secondo me ci dà due informazioni Punto primo I tassi aumenteranno ancora di 0,25 basis point Punto secondo Questo però probabilmente entro la fine dell'anno Non nel prossimo PONC magari Ma entro la fine dell'anno Poi secondo punto Fino almeno a maggio Marzo, maggio, giugno Quella zona lì ragazzi Il trimestre secondo il Q2 Insomma Non ho aspettato i tagli dei tassi Perché non se ne vedrà neanche l'ombra Questo è quello che Powell sostanzialmente sta indicando Allora queste questioni qui possono inficiare sull'eventuale 2024 halving di Bitcoin Eventuale fase di ripresa Possibilità di espansione Perché ragazzi nel prossimo anno dobbiamo andare a ragionare su alcune cose rilevanti Tra le quali sostanzialmente la possibilità che Bitcoin abbia un doppio turbo Cioè da una parte la questione della riduzione dell'offerta a mercato con l'halving Dall'altra invece la riduzione dei tassi di interesse con una politica più accomodante Da parte della banca centrale americana E questo andrebbe in sostanza a dargli una doppia spinta Quindi da una parte riduzione dell'offerta Dall'altra aumento della liquidità disponibile con la politica accomodante della Fed E questo è una ipercombo rialzista Ora questa cosa però viene meno almeno fino al Q2 del 2024 Non ci sarà il taglio di tasti Quindi scordatevelo Se vi ricordate ragazzi qualcuno Inneggiava un taglio di tasti addirittura lo scorso anno Da inizio anno 2023 Si pensava che questi tassi dovessero scendere a marzo Cosa assolutamente impossibile da un punto di vista macro Proprio era impossibile avvenisse una cosa del genere Il controllo dell'inflazione non è ancora finito Questo Paolo l'ha detto E quindi è stato molto cattivello da questo punto di vista Le reazioni dei mercati sono stati negative Però comunque sostanzialmente i mercati lo sapevano già Probabilmente che questa cosa sarebbe avvenuta Vi faccio vedere anche Bitcoin nella sua oscillazione di oggi Che ha fatto una Anzi facciamo così Guardiamolo su questo grafico che è un po' più evidente Allora qui ha fatto vedete Dopo Jackson Hole Che qui le dichiarazioni di Powell Ha fatto il classico pump and dump Ma comunque poca cosa Quindi è vero c'è stata un po' di volatilità Ma tra questa zona e questa zona meno 2 Insomma quindi insomma niente di rilevante Una volatilità banale E da classica stella news E poi il ritorno in pratica Agli stessi valori di prima Però la questione è legata anche ai tassi di interesse Per esempio gli Stati Uniti Hanno avuto il decennale Che ha incrementato il tasso di interesse Perché si presume che Ci sarà una inflazione ancora sotto controllo E quindi dei tassi molto alti Io vi faccio vedere anche la questione del DXY Perché il DXY che è l'indice del dollaro si è apprezzato Quindi andando a indicare in sostanza Una fase ancora positiva per l'indice del dollaro americano Eccolo qui ragazzi Guardate la struttura Attenzione ve lo ripeto Guardate 1, 2, 3, 4, 5, 6 settimane verdi Per il dollaro americano Questa fase di rimbalzo è notevole Siamo arrivati a dei livelli importanti su queste medie mobili Quindi la 52 settimane La media mobile annuale è ancora in trend al ribasso E l'eventuale superamento di questo livello da parte del dollaro Indicherebbe secondo me da qui superato E questa zona superata Che su questo minimo è iniziato un nuovo ciclo annuale Per quanto riguarda il dollaro Ma attenzione perché il dollaro deve chiudere un ciclo da 15 anni Quindi potrebbe iniziare una nuova fase di estrema forza Per il dollaro americano Che potrebbe durare per tanti anni Lo so Sembra strano Molti dicono il dollaro è morto Il dollaro qui Il dollaro lì I dati grafici non stanno indicando questo Però ancora i break non sono avvenuti Quindi mettiamo il carro davanti ai voi Perché al momento questa è una fase di rimbalzo Cioè di recupero di questo trend C'è da dire che da un punto di vista classico Di chi ama i cicli Il tondino della famosa tazza di latte O di caffè sta avvenendo Quindi queste sono settimane Un grafico di lungo periodo Non è un grafico di breve periodo Quello che vedete qui sotto Sono cicli consistenti L'ultimo era il 15 anni Che vedete nella sua struttura Tra alti e bassi Ha comunque portato una fase di risalita Considerate che poi Le oscillazioni delle monete Come quelle dell'euro, dollaro eccetera Non sono oscillazioni consistenti Sono sempre oscillazioni che anche un 10-20% Hanno un impatto enorme Da un punto di vista economico Quindi sono lente Però questo è stato l'immediato risultato Ora unendo un po' i puntini Cosa può succedere a Bitcoin? Alcuni hanno indicato Che questa questione legata Alle oscillazioni di Bitcoin Vi faccio vedere anche l'articolo Che ho preso In riferimento questo Sotto da qui anche perché Una miners Insomma Quelli di brains Che sono dei miners Hanno indicato Che effettivamente Il prezzo di Bitcoin Aggiustato all'inflazione Dal 2017 Non è mai cresciuto Dal massimo del 2017 Questa cosa è vera Andiamo a fare il calcolo ragazzi È vera Già ve lo dico Però sostanzialmente C'è da dire anche un'altra cosetta Non è mai cresciuta Però ha fatto delle oscillazioni Poi notevoli comunque Perché Bitcoin è andato su e giù Allora intanto Facciamo così Cioè ci mettiamo il grafico Di Bitcoin Così lo andiamo a vedere Mettiamo il BLX Che è molto molto E l'indice di Bitcoin È molto ampio Allora Qual era il massimo di questo picco? Il massimo di questo picco È stato circa 19.700 dollari 19.800 dollari Questa pagina Che è l'US Inflation Calculator Ci dà le indicazioni Ragazzi Del valore Di un asset Aggiustato All'inflazione Voi sapete che Un asset finanziario Deve aumentare Naturalmente Il suo valore Per compensare L'aumento Dell'inflazione Quindi la svalutazione Del valore Della moneta Ora In base Alla questione Inflattiva Siccome C'è stato Un tasso Accumulato Di inflazione Negli ultimi Sei anni Del 24% Fatemi un po' Voi i calcoli Allora Io nel 2017 Avevamo 19.800 dollari Il valore di Bitcoin Nel 2023 E doveva essere In pratica Lo stesso valore Di 19.800 Corrisponde A 24.700 dollari Essendo Al valore Di oggi Di Bitcoin Ragazzi Valido Il valore Attuale di Bitcoin In spot E 26.000 dollari Eccolo qui Non lo trovavo In pratica È salito Di 1.300 dollari Ragazzi 1.300 dollari Che su un valore Di Circa 24.700 Corrispondono Al 5% In pratica Bitcoin In termini Reali Se andiamo a prendere Il picco Del 2020 E il Picco E l'attuale Livello Di pricing Attuale Quindi questi due dati Se andiamo a prendere Questo dato Con questo Attuale prezzo Il rialzo Vero di Bitcoin È stato Di più 5.200 E 20% E questa cosa È Indelebilmente È assolutamente La verità Allora Questo È Un po' Cattivella Forse un po' Quest'analisi Perché vi fa Aprire un po' Gli occhi Ci fa aprire un po' Gli occhi Su alcune cosette C'è da dire Però Che Bitcoin In questo momento Viene anche Da un bear market Diciamo Considerevole Non è Sui massimi storici Quindi Ha raggiunto Comunque Dei massimi storici Notevolmente Più ampi Che potrebbero E portare Questo Calcolo A dei valori Notevolmente Diversi Perché se noi Andiamo a calcolare Questa Aggiunta Che manca Abbiamo un più Cento Passa Per cento E 160 Per cento Da aggiungere Quindi È tantissimo Insomma Però La riflessione C'è da fare Ragazzi Cioè C'è da fare Che se noi In effetti Calcoliamo Le oscillazioni In media Di bitcoin Questo ragionamento Viene un po' Meno Allora Come si fa A cercare di ragionare Su un valore Un po' più veritiero Utilizzando delle medie Quindi non andiamo A prendere Il picco Dell'anno 2017 Andiamo a prendere Un valore Corretto Un valore Di media E lo paragoniamo A quello Attuale Possiamo farlo Anche per gli altri Anni Però Vediamo Di sistemare Quest'analisi Che è stata Presentata Così un po' Per fare Scalpore Ma poi È oggettivamente Un po' Poco valida Allora Questo è tutto L'anno 2017 Che va Da qui A qui Ragazzi Quindi se noi Andiamo a prendere La struttura Dell'anno 2017 Ci volessimo Prendere Un valore Medio Dovremmo stare Più o meno In questa zona Cioè Vedete In Tra 2005 E 3000 Dollari Si potrebbe fare Anche un calcolo Perfettamente Indicativo Anzi va Se volete Lo facciamo Ma Tanto insomma Non è che Ci cambia Qualcosa Se lo facciamo In maniera Qualitativa E non quantitativa Perché è comunque Un calcolo Per comprendere Alcuni concetti Allora 19.008 Il massimo E 750 Dollari Il minimo 750 Più 19.000 E 8 Diviso 2 Il prezzo Medio E 10.000 Dollari Secondo me Non è anche giusto Questo qui Perché Il pricing Del Di bitcoin Non è stato Tanto tempo Sopra Questo Livello Dove sta Eccolo qui Sopra questo livello Ma È stato poi Anche più giù Insomma Eccetera Quindi Sostanzialmente I 10.000 Sono anche Tirati molto Verso L'alto Piuttosto che Verso Il basso Io Tendenzialmente Preferirei Una struttura Prendere Diciamo Un livello Di prezzo Un po' Più basso Perché Lo ritengo Più coerente Questa È la Vedete La struttura Del range E In effetti Il mercato È andato Su Però Poi è andato Giù Quindi Qui sopra Sopra I 10.000 C'è stato I 1000 Dollari Scusate C'è stato C'è stato Veramente poco Cioè Sostanzialmente Allora Vediamo Dove stanno I 10.000 Dollari Eccolo qua Ragazzi Scusate Ma Mi arrivavano Telefonate Brand Ho dovuto Spegnere Il telefono Allora Ecco Vedete Da qui A qui Solo Questo Tempo Il prezzo Di bitcoin Ha passato Sopra i 10.000 Dollari Ed è arrivato Fino a 20.000 Quindi In sostanza È vero Che se io prendo Il minimo E il massimo Mi esce fuori Una media Tirata A 10.000 Dollari Ma è sbagliato Perché il prezzo Vero Del 2017 Quello medio Quello Che è stato Tradato Quello fatto Di volumi Non è 10.000 Dollari 10.000 Dollari È pochissimo C'è stato Poco tempo Lì C'è stato Veramente Tanto Un mesetto Quindi pochissimo Proprio in questa Zona Di Pricing Che va Da novembre A dicembre È salito Sopra i 10.000 Dollari Tutto il resto Dell'anno 2017 È stato Inferiore Quindi Secondo me Il prezzo Medio Corretto Da utilizzare È Una Un punto Geometrico Medio Intorno a Questa Scalata Che io Utilizzerei Anche Considerando La fine Del bear Market Quindi Intorno ai 4.000 Dollari Quindi Secondo me È un prezzo Adeguato Se mi avete Seguito In questa Forma Di Ragionamento Andiamo A rifare Il calcolo E mettiamo Il vero Valore Quello Che ci siamo Detti Noi Allora Nel 2017 Del prezzo Medio Che è stato Tradato In termini Di volume Non il prezzo Medio Aritmetico Che cosa Quanto è salito Il bitcoin Attualmente Allora Attualmente Dovrebbe valere Circa 5.000 Dollari Questo È il Il prezzo Aggiustato All'inflazione Per tutto Quello Che è stato Tradato Nel 2017 Poi se avete Comprato Tra novembre Dicembre 2017 Siete un po' Sfortunati Oppure Poco formati Però sostanzialmente Quello è il concetto Allora In realtà Poi abbiamo visto Che l'incremento Adesso è Considerabile Perché si parla Di circa 21.000 Dollari In più 21.000 Dollari Rispetto Ai 5.000 Quindi Diviso 5.000 Ci viene Una cifretta Un po' Interessantuccia Cioè Il 420% Avete visto Come cambiano Sostanzialmente I dati In base Al punto Di riferimento Dove noi Stiamo andando A controllare Allora Da Conclusione Di questo Discorso Che bitcoin Non sia salito Dal 2017 Perché Aggiustata L'inflazione Il picco È uguale All'attuale Minimo Adesso È verissima Ma è anche Un modo Di formulare Queste affermazioni In maniera Estremamente Poco produttiva E non è Corretta Cioè Non è una cosa Giusta Non è una cosa Che rappresenta La realtà Dei fatti La realtà Dei fatti Andare a vedere Nel 2017 Quanto quotava Bitcoin Cioè Bitcoin Sostanzialmente Ha quotato Tra i 700 Dollari E i 20 Ma in prezzo Ma in prezzo medio La stragrande Maggioranza Del tempo È stato Sotto I 4.000 Dollari E sopra I 4.000 Dollari Oscillando Intorno A quei livelli Poi ha chiuso Anche il bear market In 2018 A 3.600 Dollari 3.300 Dollari Quindi In prezzo medio In due anni Più o meno Intorno ai 4.000 E da quella data Agli attuali valori È aumentato Del 420 Per cento Quindi non è più Un più 5 Ragazzi Ma è un più 400 per cento Rispetto alla media Dei prezzi 17 E 18 Allora Così si fanno i calcoli E così si dice Tante persone Che nel 2017 Hanno acquistato Bitcoin In media Girano Stanno intorno A questo livello Di rendimento Chi magari Ha guadagnato Di più Ti ha guadagnato Di meno Però Non è un rendimento A una cifra Cioè Parliamo di 420 Per cento Allora Questi sono i calcoli E' un modo Di presentare A volte Delle informazioni Un po' Un po' C'è Non so Non di parte Perché io non voglio Essere di parte Però Pochi weekend A tutti Ciao